Ciao a tutti, bene, questa volta parleremo di dissonanza cognitiva. Cos'è la dissonanza cognitiva? Beh, cerco di spiegarlo in parole molto semplici. Vi è mai capitato di pensare una cosa e farne un'altra senza rendervi conto, di avere due idee completamente contrastanti e incompatibili? Beh, penso di sì, penso che sia capitato un po' tutti, no? Il problema è quando queste situazioni causano tensioni o malessere. Bene, quando succede questo si ha una dissonanza cognitiva. Quindi la dissonanza cognitiva consiste nel sostenere due o più cognizioni o pensieri che risultano in contraddizione tra loro e questo ovviamente porta a tensione e disagio. Facciamo un esempio banale, no? Pensate a una persona che dice, bene, a me dà fastidio quando le persone parlano in modo sboccato e dicono tante parolacce, ma quando io mi arrabbio dico un sacco di parolacce e di insulti. Oppure quando una persona dice, ah, non sopporto chi rilancia oggetti quando si arrabbia, ma a volte mi capita, quando sono arrabbiato, di lanciare qualcosa solo per spogarmi. Bene, si tratta di frasi completamente contrastanti, dissonanti tra loro, no? Che non portano ad avere una visione univoca, non si è in sinergia, non si è in sintonia. I due pensieri sono contrastanti, quindi non c'è coerenza in quello che sono le nostre credenze. Queste pensieri, queste contraposizioni possono portare ovviamente a stati di tensione, di stress e di confusione. C'è stato uno studioso, Festinger, che ha studiato moltissimo la dissonanza cognitiva e ha individuato tre modalità per ridurla, tre categorie, no, di incongruenza psicologica. Il primo è cambiare un pensiero per renderlo più corrente con l'altro, no? Quindi se una persona, ad esempio, spende troppo denaro e al contempo pensa di dover risparmiare per migliorare la propria posizione economica, deve ovviamente cambiare uno dei due comportamenti o in un senso o nell'altro, o spende meno o non accumula nulla, no? Quindi non è che può fare tutte e due le cose, spendere di più e accumulare più denaro. Oppure, come secondo punto, deve aumentare l'evidenza a favore del comportamento incoerente, no? Se ad esempio, di fronte all'evidenza che spendere troppo va oltre le sue possibilità, dovrebbe cercare di spendere meno, se quello è magari la cosa che crea più problemi. Oppure, se ad esempio ha il vizio di bere troppo, il fatto che, di fronte all'evidenza, che il bere troppo fa male, chi approfitta di questo comportamento tenderà a giustificarsi facendo uso di massimi popolari tipo il vino fa buon sangue, no? Oppure mio nonno ha bevuto fino a cent'anni ed è andata benissimo. Oppure si può diminuire la dissonanza facendo in modo che le posizioni assunte siano meno discordanti tra di loro. Chi ha, ad esempio, problemi di salute, chi ha colesterolo alto, dovrebbe evitare di ingerire cibi grassi. Però questa persona potrebbe giustificarsi dicendo che è meglio vivere in modo inconsapevole, essere ignorante e felici, che consapevole di vivere una vita di frustrazione, no? Ovvio che quando noi abbiamo dei pensieri così discordanti ci troviamo a disagio di fronte a noi stessi, no? Perché queste cose ci possono portare tensione. Ovviamente noi tentiamo molte volte di ridurre questa dissonanza e se ci pensiamo bene scopriremo che tutti noi siamo caduti più o meno, più o meno volte, in una dissonanza cognitiva. Facciamo degli esempi, no? Per dire che tutti ci siamo caduti, compreso il sottoscritto qualche volta sicuramente, anzi, certamente, siamo caduti tutti, quindi facciamo un esempio banale. Noi siamo a dieta, ma nel contempo mangiamo lo stesso qualche dolce, così, di straforo. Oppure abbiamo deciso di fare un certo ciclo in palestra, ma saltiamo qualche lezione, no? Perché? Perché magari mangiamo il cioccolato durante la dieta con la giustificazione di tanto un pezzettino mica mi farà male o tanto un dolce, anche se non durante la dieta, un dolce cosa vuoi che sia, mangiare un dolce mica mi rovina tutta la dieta, no? Oppure non vado in palestra, nonostante abbia l'impegno preso con me stesso scenario, e trovo la scusa. Eh, tanto saltare una volta, che succede? Non vado stavolta, vado la settimana prossima, tanto manco si nota, no? Una volta cosa vuoi che sia, in fondo, no? Per cui non è un problema. E ovviamente, cosa vuol dire? Che noi tendiamo sempre a cercare l'azione, l'opzione, la soluzione più semplice. E cosa facciamo per far questo? Aggiungiamo ovviamente nuove credenze, no? Come per dire, mangiare un dolce ogni tanto mica crea problemi la dieta, oppure saltare la pesta per una volta, cosa vuoi che sia, no? Quindi aggiungo queste nuove opzioni, queste nuove credenze, cambiando quelle che ho, e tolgo importanza a quelle che avevo prima, cercando di eliminare il più possibile l'incorerenza, no? In fondo, proprio con queste scuse qua, qual è l'obiettivo finale? Quello di dare valore all'opzione scelta a discapito dell'alternativo scartato, ovviamente, no? E questo vale per qualunque scelta, qualunque cosa. Cosa succede con questo? Che arriverò a avere sempre più giustificazione, ad autogiustificarmi sempre di più. Quindi la dissonanza cognitiva spiega la tendenza all'autogiustificazione e spiega il perché ci siano poi ansia e tensione legate alla possibilità di aver preso una decisione sbagliata o di aver fatto qualcosa in modo scorretto. E questo ci può portare nuovi motivi di tensione, di stress, ci portano a vivere male, a essere infelici, o ci portano a creare nuove giustificazioni per appoggiare queste nostre decisioni. Allo stesso tempo non sopportiamo, ovviamente, che i due pensieri siano contradditori e incompatibili. E quindi, a volte, tendiamo a giustificare questa contraddizione anche con nuove idee assurde. Bisogna, ovviamente, sottolineare che la dissonanza cognitiva significa quando abbiamo, ovviamente, libertà di scelta per quanto riguarda il modo di agire. Se ci obbligano a fare qualcosa, se ci dicono domani tu devi essere lì, cioè, so, convocazione in tribunale, domani alle ore 10 non è che io possa fare tante cose, devo andare lì per forza. Il problema è quando ho libertà di scelta e quindi quando sono confuso, quando cerco giustificazioni, quando cerco sempre qualcosa di comodo. È ovvio, ma, molte persone dicono, ma è un male lavorare su queste cose. Cosa devo fare su queste cose? Beh, ovviamente non è che un video possa risolvere tutto, per questo sia io che Serena facciamo delle sessioni di coaching, counseling, PNL, eccetera, personalizzate, proprio per riuscire a aiutare le persone a riuscire fuori da qualunque tipologia di stress o per centrare il più possibile i propri obiettivi. Ma la cosa fondamentale è che noi dobbiamo imparare a innescare un ciclo virtuoso, non innescare un ciclo vizioso, perché se io devo riuscire a raggiungere la consapevolezza che io sto usando la dissonanza cognitiva come scusa per trovare sempre delle alternative, per autogiustificarmi, quindi devo fare attenzione, perché effettivamente se lo faccio una volta, per carità, non succede niente, lo abbiamo fatto tutti, ma se questa cosa diventa un vizio, diventa un'abitudine, allora vuol dire che siamo sotto a una dissonanza cognitiva che noi utilizziamo a nostro vantaggio per cercare sempre una scusante, per autogiustificarci. Quindi qualunque cosa succeda, anche a livello sentimentale, non va bene, cominciamo a dire, eh, tanto non era la persona giusta per me, eh, tanto non ne valeva la pena più di tanto, ma sì, ma sto meglio così, in fondo da solo sto meglio, oppure non era come pensavo. Quindi non ammetto la verità, trovo sempre una giustificazione e mi creo delle nuove credenze, che a lungo andare mi porteranno ad andare sempre oltre, sempre oltre, sempre oltre, finché arriverò a dover per forza esagerare, a trovare delle scusanti che non stanno nel cielo o nel terra, come si suol dire. E questo poi, nei momenti di lucidità, ci porterà a stare veramente male, perché ci troviamo a fare o dire cose che sono completamente contro i nostri principi. E anche se ci sforziamo a creare nuove credenze, nuove giustificazioni, a volte può diventare difficile poi sostenerle realmente o sostenerle a livello di coscienza, no? Ecco perché, a questo punto, se ci rendiamo conto che soffriamo di questo problema, ovviamente, se abbiamo questa dissonanza con il TIO veramente elevata, forse è meglio rivolgersi a qualcuno, a chiedere aiuto e vedere come fare per superare questo problema. Quindi, spero di esservi stato, di essere stato utile anche questa volta qua. Per qualunque necessità, non esitate a contattarmi, sotto sono segnati tutte le mie indicazioni, tutti i miei contatti, la mail, a cui potete scrivere per eventuale contatto telefonico. A presto, ciao!